E' stato realizzato con l'obiettivo di mettere in sicurezza ciclisti e pedoni in un punto ad alto traffico veicolare, ma in realtà non è mai stato utilizzato. Il sottopasso di via Sandro Pertini, all'altezza della chiesa di San Cristoforo, è chiuso da tanti anni, ma è rimasto un appoggio e un nascondiglio per clochard e tossicodipendenti. Le erbacce hanno preso sopravvento, le strutture si sono rovinate e il passare del tempo ha fatto il resto. Anche Fanu TV se ne è occupata molte volte, raccogliendo le testimonianze dei cittadini che chiedevano quantomeno un'ordinaria manutenzione. Infatti il comune non ha alcune intenzioni di riaprirlo, così l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori si è presa in carico la situazione ed oggi il sottopasso si presenta così, quasi tutto pulito. Mancano pochi punti da sistemare, tra questi la ringhiera di velta tempo fa a causa di un incidente stradale, ma l'assessore assicura, presto verrà ripristinata. Siamo intervenuti perché è un sottopasso che di fatto è un'opera, è un'infrastruttura che riguarda delle opere compensative del 2004, ma non è mai stato utilizzato né dai passanti né da ciclisti, se non per bivaccare e per luoghi poco sicuri. Per questo motivo lo abbiamo chiuso ed è diventato purtroppo un ricettacolo di rifiuti in curia delle persone che ci transitavano. Siamo intervenuti oggi perché la situazione era veramente insostenibile, sono molto contenta e ringrazio ASET perché lo ha fatto veramente con cura e nel dettaglio. Finiremo di fare la parte legata al sottopasso nelle prossime settimane, però ad oggi la situazione è questa. E qui mi appello a tutti i cittadini, e lo dico davvero, perché stiamo lavorando per una città sempre rivolta al verde, al decoro e anche alla qualità dell'ambiente. Per cui mi rivolgo a voi perché come il Comune deve fare la sua parte, anche ognuno di voi deve essere responsabile delle proprie azioni. Soprattutto perché in ogni luogo che noi attraversiamo e ogni cosa che noi abbiamo nella città è anche di nostra proprietà. Ed è un bene proprio comune, non solo nostro. Quindi veramente cerchiamo di tutelare lo spazio, le cose che abitiamo, perché questo bene debba essere preservato. Grazie.